Venite, venite, vite! Ho visto Bianca Guaccero! Eccola, eccola! No, no, via, via, è mia, è mia lei! Una bravissima attrice, giovanissima amica di Rai 1 e naturalmente anche di Teleton perché è qui con noi per aiutare la ricerca. Assolutamente sì, sono quei momenti in cui veramente mettendo a disposizione il nostro messiere appunto ci sentiamo, almeno io mi sento molto utile per un qualcosa di vero, concreto e soprattutto appunto socialmente importante. Importante e utile sì, perché chiunque, anche noi, potremmo essere colpite da un momento all'altro da una malattia genetica, quindi in questo periodo natalizio un regalo che ci possiamo fare e possiamo fare agli altri è donare con un sms a Teleton. Esatto, io ti ripeto, sono qui e sono contenta di far parte di questa grande squadra che si dà da fare e appunto porta avanti una diretta per tante e tante ore. È sempre stata una cosa che io guardavo da casa e mi chiedevo appunto... Ma come faranno le rambella tempra? Però ecco, poi ti fa capire come veramente ci sia una volontà dietro molto più forte di qualsiasi difficoltà perché la motivazione è assolutamente forte. Quindi invito tutti quanti a fare questa piccola donazione che magari per ognuno, il singolo non è assolutamente nulla, anche un euro 50 centesimi, però messi tutti quanti insieme ovviamente fanno una bella... Una goccia, tante gocce fanno il mare quindi. Tante goccioline fanno un oceano, un oceano di ricerca e di solidarietà e allora si può fare sms al 45505 perché si possono combattere le malattie genetiche. Ciao. Ciao.